Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Rimworld, nuovo episodio, nello scorso abbiamo iniziato la seconda spedizione della colonia Blackout, Zipp e Lumi adesso sono sul posto, in una nuova zona, togliamo la pausa e che cosa stanno facendo? Stanno raccogliendo ore e componenti da spedire a casa mentre Maker, Vitos, Tomp, Skyler e Vitalia hanno subito un attacco da parte di pirati che è stato abbastanza difficile da controbattere, però ce l'abbiamo fatta, il problema Vitos ha perso la gamba e Vitalia ha perso un braccio questo significa che adesso sono entrambi abbastanza... hanno dei problemi la manipolazione di Vitalia è al 75% e Vitalia era un bravo tiratore, era anche un bravo medico quindi con la manipolazione sbagliata non è il top Vitos che si deve muovere molto perché lavora nei campi, senza la gamba, cioè è lento moving al 76% quindi che facciamo? Non lo so, adesso ho chiamato dei trader nella grande speranza di poter trovare qualche... sapete che ho un'idea pazzesca? e se mandassimo Stomp in un villaggio amico a commerciare? è facile, ragazzi non ci ho assolutamente pensato io prendo Stomp, gli assegno praticamente tutto l'oro che abbiamo e visto che l'oro pesa poco e vale tanto è il top ok, allora, il prossimo giorno possiamo provarci, dai fuori ci sono 11 gradi quindi credo che... si, in realtà... non si... c'è le stufe, possiamo anche iniziare a spegnerle Lumi ha un pessimo umore perché... Leblanc è morto voglio dormire con Skyler, ho mangiato senza un tavolo ah, caspita ragazzi quindi per 10 giorni avrà un morale a terra ma non è che è morto durante il raid, c'era tra i pirati sì, perché Lumi l'abbiamo reclutata tra i nemici quindi... aiuto eh, bel casino comunque iniziamo a piazzare l'oro e a questo punto anche... no, non tutti i componenti i componenti aspettano no, semplicemente l'oro accettiamo piazziamo l'oro dentro al pod e lo lanciamo si guardate, con 10 unità di combustibile basta e avanza guardate eh veloce veloce I've arrived dove? Scusa, io non l'ho visto arrivare però se mi dici così, va bene, mi fido il nostro transport pod è arrivato da qualche parte quanto ora abbiamo? 1100, ok adesso maker qui perfetto, file pod eh, qui però dobbiamo vedere world alaling è fazione shone accord vogliono psycho leaves e ci danno in cambio argento no, non me ne frega niente poi abbiamo tu dei black mantic cobra poi abbiamo rest stop by the crag dei shone accord millers community sì, vabbè, ci sono tanti aha potrei distruggere questa questa piccola base oppure niente, mando semplicemente dalaling stomp quindi per andare a dalaling secondo me non servirà molto una trentina di unità di carburante vediamo comunque qui ne abbiamo fin troppo quindi stomp salta qua sopra e items io direi di prendere l'oro e basta tutto il resto è noia no, beh, non tutto però, caspita prendiamo 600 unità d'oro che è più della metà ok vedo che stomp già si sta preparando sta recuperando l'oro e si butta nel pod e dopo di che lo lanciamo per andare a fare commercio sperando che funzioni una gallina che è stata attaccata da un orso grizzly seriamente e il problema è che non è che ho molti altri merda il grizzly mi ha fatto fuori una torretta si può whatever stomp però non ha più un'arma giusto? o è vitos che ha perso l'arma vitos ha perso l'arma e aveva un bellissimo fucile d'assalto che chissà dove cappero me l'hanno portato queste merda eh bel casino ah no probabilmente è ancora qui si è questo vattelo a recuperare tutto qui abbiamo benissimo materiale da recuperare e quando stomp è pronto lanciamo intanto qui la torretta va ricostruita però ragazzi ah e va costruita anche il mamma mia abbiamo perso il muro della stanza di sky paura ok stomp è pronto bam si se potevamo usarne addirittura meno visita alla linger ok vediamo come va intanto andiamo a vedere blackout e gli altri dove sono niente l'acciaio lo stanno recuperando i componenti ne abbiamo già 50 l'oro lo abbiamo già lanciato iniziamo a costruire il prossimo transport launcher e stomp è arrivato trade fantastico ragazzi non ci posso credere cioè quindi praticamente stomp si è riuscito effettivamente ad arrivare possiamo fare un trade notevole perché abbiamo abbiamo molto oro 600 e ogni unità di oro vale 5 quindi in totale 3159 in valore ok vediamo che cosa ci possono dare maiali clothes purtroppo non hanno moltissimi componenti no ad essere on essere non hanno un piffero mi sono dimenticato di dare però cazzo mi sono dimenticato di dargli un non ci credo eh ok eh niente recuperiamo mi sono dimenticato di dargli come cazzo si chiama tanto gli diamo un po' di cibo per sopravvivere si le provviste can fuel 30 poi mi servono 3 componenti oppure no sapete cosa facciamo prendiamo soltanto il can fuel accettiamo in cambio vediamo l'oro chiaramente in modo da arrivare a ah però abbiamo troppo peso addosso adesso no sta pensando magari riesco a recuperare qualcosa una pro ah una protesi si questa serve questo serve per il nostro amico una protesi e basta mi serve nient'altro ok quindi quanto ore dobbiamo dare ancora facciamo meno 100 no sarà di più meno 120 ah dai 155 ok e settle perché no perché hanno una base questi ok a questo punto io direi stomp mi fa una bella carovana e dobbiamo e dobbiamo cercare di spostarci fra 3,7 ora praticamente saremo fuori dalla zona in cui i nostri alleati chiamiamoli così hanno la base e potremmo costruire un pannello di lancio speriamo ok intanto andiamo a dare un'acchiata qui con l'acciaio stiamo andando avanti bene qui ci sono ancora dei componenti che possiamo recuperare ma direi che a questo punto l'UMI volendo la possiamo già spedire si piglia 47 componenti quando è pronta la mandiamo a casa quindi rimangono soltanto blackout e zippie che poi costruiranno gli ultimi dove la mettiamo qui fuori che non si sa mai vediamo eh non arriva cioè si è arrivata ma non l'ho vista atterrare comunque è arrivata l'UMI stomp dove cazzo sta si in realtà gli avevo dato un ordine a questo no ma è chiaro che c'è qualcosa che non funziona ah è immobilizzato perché ha troppo peso va a fan bagno adesso è tutto molto chiaro no ok allora visita la link e find trade siamo stati scemi abbiamo portato una persona a questo punto se io mi prendo con me una mucca o un maiale potrei o un aschi potrei spostare più roba probabilmente mi serve un animale comunque perché se no non riesco a trasportare un aschi quanto peso può portare 75 più un aschi e in cambio ovviamente devo dare oro direi 50 sto scherzando si no ma ve lo do io meno 50 pirla meno 60 ok aurora si chiama l'aschi ok no relation con la nostra aurora che però diventerà ah no non ce l'abbiamo ancora mi piacerebbe fare la gamba pesa 8 kg cazzo ecco mi piacerebbe vedere dove cazzo posso mettere no niente ragazzi devo veramente buttare via 10 kg confermiamo che buttiamo via la gamba il camp me lo posso anche lanciare da solo cioè ne abbandoniamo 10 no nulla andiamo tutto non ci posso non ci posso credere non basta e abbandoniamo e abbandoniamo due pasti eh che cazzo ho fatto veramente una sciocchezza ho fatto una sciocchezza ma si impara ragazzi così dai allora adesso zippy e blackout praticamente mi hanno portato mi hanno portato l'acciaio a questo punto direi che è il caso di iniziare a costruire dei transport pod non penso che abbia senso spedire altro acciaio qui abbiamo un componente ma va bene non voglio diventare pazzo credo che possano entrambe tornare a casa ok stomp intanto si sta spostando sulla casella giusta al suo aschi diciamo che l'esplorazione è stata abbastanza non saprei come dire non è non è stata proprio il top però quando arrivi in posizione amico io ce lo dici days of food 0,5 e questo non va bene dobbiamo lanciargli del cibo perché così non va per nulla bene per stomp ah stava dormendo probabilmente perché non andava più avanti vediamo se arriva vorrei poter utilizzare questa cazzo di zona cioè non si può esplorare no no cioè quindi 0,1 giorni ok spostiamoci ancora un po' vicino e facciamo un settle dentro abbiamo gli exotic trader a casa no non posso perdere stomp comunque in un modo così stupido beh quindi praticamente scusate cioè days of food 0 non posso non posso più fare un cazzo non posso dire che la mia tua faccia può solo avere una base non riesco veramente a capire ragazzi comunque credo di aver fatto una cazzata allora perché stomp non arriverà mai a casa sano e salvo maker deve immediatamente fare un transport pod e andiamo a salvare quel fettente blackout e zip non hanno più la minchia da fare ok allora io direi primo gruppo item i pasti per ul no il carburante mi serve me ne serve 10 quindi 120 lo portiamo con noi componenti zippi acciaio accetta intanto andiamo verso maker ok maker a questo punto gruppo di lancio pasta nutriente ce la portiamo tutta e e va maker ok conferma tu vai a casa e adesso blackout mi costruisce e dai e dai però non ce la posso fare l'ultimo transport pod ok aspettiamo che maker arrivi dentro il pod con con tutta la roba intanto abbiamo dei trader si servirebbe ovviamente si servirebbe ovviamente stomp chiaramente ma pazzesco ok maker può lanciare ok merge allora adesso allora adesso 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 maker ha raggiunto stomp abbiamo 5 giorni di cibo e in 5 giorni dobbiamo arrivare nella colonia estimated time to destination 2,8 giorni quindi quindi sembra che maker ce la faccia salvare stomp però che cazzata combinato è chiaro che probabilmente c'è qualche altro modo ma lamp of precious resources item stash andiamo direttamente nel lamp of precious resources che se non sbaglio ci si mette un giorno virgola 8 ok blackout quindi non ha più cibo merda ok no non ha più cibo per una semplice ragione che è scaduto quindi domani gli facciamo prendere le fragole e si ciba di quelle e nel frattempo aspetta che maker e stomp arrivino oppure oppure facciamo cioè possiamo la base rimarrà quindi quando maker e stomp arrivano da queste parti poi possono prendere il pod credo credo vediamo chi è che può fare trade lumi 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 va immediatamente a fare Mcfly exotic good traders se avessi l'oro adesso potrei fare il trade con l'oro ma sono stato uno scemo allora intanto gli vendiamo le galline bene e abbiamo anche una volpe ah dolci vabbè teniamocela una protesi di braccio ci sta sempre una gamba bionica ci sta sempre assolutamente e in questo caso se potessi vendere qualcosa non si può ok e va bene in questo caso non mi lamento quanto vi do vi do 500 pezzi d'oro e a quanto arriviamo con 79 no no non lo compro io c'è meno 500 sbagliato ecco praticamente praticamente gli porto a casa tutte le parti che hanno con l'oro bene animal neuro trainer che cosa fa qui ah si migliora le capacità con gli animali no non mi interessa accettiamo questo trade e la prima cosa che si fa però cazzo la lumi sposti immediatamente gli oggetti perché non possono rimanere fuori no 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 non ci siamo capiti lumi vai intanto maker e stomp sono in viaggio blackout si sveglia watching sunrise e inizia a tagliare le piante pensate se cazzo stomp rimaneva senza cibo ma ditemi voi se deve finire così qui c'è un item stash che però è c'è anche un ben hunter pack che non mi piace per niente come dire sapete cosa manca a questo gioco i mezzi di trasporto cioè dovrei essere in grado di costruire un camion o una macchina un qualsiasi cosa con cui spostarsi velocemente perché spostarsi a piedi è abbastanza lento invece i pod sono ottimi però adesso di pod boh comunque intanto arriva il nuovo david strand le t-shirt sono pronte anche se fanno schifo però ci sono quindi io direi che la prossima cosa che si fa duster non ne abbiamo ne facciamo 8 però si possono fare solo in david strand perfetto vitus mi ha praticamente letto nel pensiero no perché non mi brucia sti cosi perché hanno una qualità superiore ok però io i tribalware li devo eliminare cioè non posso allora tranne le armor vest batter down dust jacket pan park eh praticamente soltanto i tribalware li bruci tutti hit points inequality vai close non mi recupera acciaio skylar fa le giacche vitali recupera l'acciaio zippy ricerca e vitus sposto ok intanto la power armor di maker ancora lì ferma blackout ha praticamente finito di cogliere le fragole adesso ha un po' di cibo scale fra tre dieci giorni visto che non ha una minchia da fare gli faccio recuperare ancora un po' di macchinari compattati avrà un po' c'è da solo lì sarà un po' come dire triste solo o sola non mi ricordo mai se blackout è un maschio o una femmina è una femmina la chiamiamo sempre maschio ma blackout è una ragazza una donna di 42 anni ah attenzione perché ecco intanto ho trovato degli altri macchinari bloccati maker stomp si stanno avvicinando a blackout perfetto veramente perfetto ma io non vedo l'ora che ritornino tutti alla colonia e un'altra cosa che possiamo fare adesso Vitos ha la peg leg possiamo dargli un'operazione install bionic leg left quindi lo metterei facciamo che fa fichi fichi con zippi vedo che ci sono i cuoricini che bam e poi inizio a prepararti vai nella sala operatoria perché domani magari vitality sistema ma noi pensate c'è quanto tempo ci stiamo mettendo per fare da qui a qui guardate quanto cazzo grande la mappa del mondo non lo so come nooo ragazzi abbiamo perso 75 medicine di erbe ouch tanto vitality sta già procedendo all'operazione installare una gamba bionica su Vitos sarà fantastica poi darà dei calci nelle palle dei nemici pazzeschi ok ce l'abbiamo bionic leg efficienza 140 per 100 boom bravissimo Vitos dai 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 che maker e stomp si stanno avvicinando stomp ha il morale un po' a terra però stomp e aurora perché abbiamo anche il cane adesso dimenticavo mood no sono abbastanza buoni cibo così così res così così ma poi quando arrivano nella base ci sono le fragole ma soprattutto ci sono cazzo sei eccoli qui ragazzi sono arrivati blackout maker e stomp e aurora sono arrivati a destinazione questo è fantastico perché adesso qui abbiamo la possibilità di raggruppare aurora e stomp non ho preso troppo allora aurora e blackout possono andarsene accetta quindi portiamo via il cane e blackout e maker e stomp seguono tanto spostano i componenti ok perfetto andata adesso abbiamo finito una ricerca perfetto maker ha come obiettivo un altro transport pod su cui carichiamo stomp eh porco cane non abbiamo abbastanza carburante per tre penso che qualcuno ci dovrà fare un lancio di carburante eh oppure maker e stomp vanno insieme boh vediamo ci starebbe anche un lancio di carburante volendo tanto blackout è tornata ok è iniziata l'estate quindi ragazzi se inizia l'estate prendo tutte le stufe e tolgo la corrente tranne no ho sbagliato ho fatto una cazzata secondo me tutte le stufe quindi togli tranne nell'SR le teniamo accese almeno due e qui una cazzo aiuto ragazzi qui questo incendio non ci voleva per nulla la torretta esplosa ah merda vabbè intanto che questi sistemano maker junior watching the sunrise scusa ragazzi ma mi è saltata una sveglia che non l'avevo messo per sbaglio in realtà ok vabbè ormai è andato ragazzi non abbiamo abbastanza carburante per tutti vediamo se possiamo no too heavy quindi sapete cosa facciamo nella nostra colonia beh belli però grazie dobbiamo costruire che due palle dobbiamo lanciare delle un po' di un po' di carburante a maker intanto stomp prendi componenti e a questo punto va bene dai buttiamo stomp che si piglia l'acciaio no i componenti servono in realtà si piglia l'acciaio i componenti accetta e vai invece qua mettiamo un po' di camp fuel tutto qua è uno spreco terribile è stato veramente un esperimento terribile però allora facciamo un trade con Kaleun wow un sacco di roba no questi siamo noi in realtà hanno la penicillina il cibo e delle magliette normali ok ciao aspetta stomp è pronto intanto ok stomp è pronto e noi adesso con maker chiedo scusa costriamo l'ultimo pod con cui poi fuggiremo ok servono materiali praticamente servono componenti 1 e componenti ne abbiamo 4 acciaio 63 ok dobbiamo recuperare un po' di acciaio per proseguire che non è affatto un problema sembra va bene questo sta continuando a lavorare perché dovrò trovare altre zone da vedere comunque va bene allora facciamo una cosa cotone ne abbiamo a bizzeffe se non sbaglio ma questo è coniglio maffalo leder cazzo il leder normale che colore ha poi si chiama cloth no intanto c'è una heatwave no una nave psychic merda però qui una mezza idea di come farla fuori ce l'ho lasciate che il cinghiale viaggi da solo fuori qui buttiamo giù due pezzi di mura e diciamo che le torrette miei facciano hanno sporco lavoro ok maker è andata prendi i componenti il carburante l'acciaio il legno e vai carica tutto quello che hai e vai il resto lo lasciamo qua è stato bello buono ragazzi siamo tutti tornati insieme appassionatamente e sono contento perché intanto lumi e vitos hanno già i duster in devil's land che sono veramente ottimi anzi sono curioso di vedere anche se farà schifo no good va bene no poor praticamente questo protegge eh da meno 13,5 più 13,5 però vale anche abbastanza bene come armatura l'elettricità no insomma non è male dai ha un valore di mercato di 710 una cosa del genere sun and grift of the desert serve per bloccare il sole però va bene ragazzi adesso la sveglia non è suonata però è suonata prima io vi ringrazio per essere rimasti con me vi chiedo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima